In queste circostanze l'unica cosa che bisogna tentare di non avere è la faccia di circostanza perché non c'è niente di più brutto che essere negativamente celebrativi o di indossare delle misure o degli atteggiamenti di modo, insomma a me non va. Con il pubblico qui presente che ha vissuto questo pomeriggio particolare della nostra vita, della vita di noi italiani e di Canale 5, abbiamo chiacchierato a lungo, sono tante facce di ragazzi giovani, tanti signori della mia età, tante persone anziane che hanno anche vissuto diversamente tutte le cose di cui abbiamo parlato prima. Però abbiamo insieme, quasi insieme, deciso che il modo migliore per omaggiare una figura come quella di Mike Bongiorno fosse quello di andare avanti a fare, spero, bene, così come piaceva a lui il nostro lavoro. E questo vale non solo per me ma anche per i tecnici, per tutti gli altri che chiaramente non sono inquadrati ma sono emozionati quanto me. Speriamo che chiamando il concorrente un po' di emozione ci passi. Abbiamo ieri, l'altro ieri conosciuto, un giovane avvocato di Salò che si chiama Roberto Foffa. Eccolo qua. Benvenuto. Anzi, bentornato. Va bene.